oggi voglio leggere con voi una storiella che gira sui social la cui morale è attualissima porta la firma di doris carrier che non so chi sia non sono riuscito a trovare molte informazioni su di lei potrebbe essere un insegnante potrebbe essere una scrittrice non lo so comunque è molto in gamba il primo giorno di università l'insegnante nella facoltà di legge è entrato in aula e la prima cosa che ha fatto è stata chiedere il nome di uno studente seduto in prima fila come ti chiami mi chiamo nelson fuori dalla mia classe e non tornare mai più a ordinare nelson era confuso il professore stava andando verso di lui si è alzato velocemente ha raccolto le sue cose e ha lasciato l'aula tutti erano spaventati e scandalizzati ma nessuno parlava va bene iniziamo a cosa servono le leggi ha chiesto l'insegnante gli studenti erano ancora spaventati ma lentamente hanno iniziato a rispondere alla domanda per avere un ordine nella società no 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 perché le persone che sbagliano paghino per le loro azioni no 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 qualcuno sa la risposta a questa domanda perché sia fatta giustizia ha detto timidamente una ragazza o finalmente giustizia ma che cos'è la giustizia tutti iniziavano ad arrabbiarsi per l'atteggiamento del professore tuttavia hanno continuato a rispondere per proteggere i diritti del popolo va bene ma ancora per distinguere il bene dal male per premiare chi fa del bene ok rispondi a questa domanda ho fatto bene quando ho espulso nelson dalla classe tutti erano silenziosi nessuno rispondeva voglio una risposta unanime no hanno risposto gli studenti posso dire che ho commesso un'ingiustizia sì risposero tutti e perché nessuno ha fatto nulla perché vogliamo leggi e regole se non abbiamo la volontà di farle rispettare ognuno di voi ha l'obbligo di parlare quando si è testimoni di un'ingiustizia tutti quanti tutti quanti non dovete tacere mai più vai a prendere nelson ordinò il professore ad una studentessa sapete quando non difendiamo i nostri diritti la dignità è persa e la dignità non può essere negoziata firmato doris kerrer un brevissimo racconto per riassumere ciò che è accaduto negli ultimi due anni e mezzo sono state commesse delle ingiustizie e la maggior parte del popolo è rimasto silente e fermo a guardare esattamente come gli studenti nell'aula mentre nelson veniva senza motivo espulso speriamo che questo sia di insegnamento per molti voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale